Come è su Facebook queste cose? Questi sono vinciati, questi proprio vinciati, vedi? Guarda la piccina, guarda, là dietro l'immondizia, eccola, sono in mezzo all'immondizia, in mezzo alle cose. Sì, ma là sotto sono i polpini, ma là sotto sono i polpini, ma là sotto sono i polpini. Per quelli che sono i polpini non si possono arciare gli animali che costano.